Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.